Questa sera a SmartLine lo stimolante dibattito sul Medio Oriente non verrà trasmesso. Invece parleremo con un uomo che ha comprato un cono gelato. Cono io salvo, gente. Ovviamente, questo non c'entra nulla con il fatto che questa stazione TV e la gelateria appartengano alla stessa multinazionale, ma sto divagando. Arriviamo al dunque. Signor Simpson, che cosa ha provato quando ha comprato il fatidico cono? Ma io non sono mai stato in guerra, ma immagino che sia un po' come quando uccidi la prima volta. La gioia mi ha travolto! Ah, che male di... Cosa mi sono persa? Kent Brockman ha detto una parolaccia terribile. Quale? Te la disegno sulla lavagna magica. Riga, altra riga, riga, altra riga. Scuotila, scuotila, scuotila! Non se ne va! Dov'è, dov'è, dov'è il martello? Prima, durante la trasmissione, ho detto una parola così brutta che dovrebbe pronunciarla solo Satana in persona seduto sulla tazza del gabinetto. Chiedo scusa e farò una cospicua donazione alle opere pie che lottano contro le parolacce tra gli adolescenti. Buonanotte! Non sembrano tanto arrabbiati. Ah, mi scusi, ha visto la mia trasmissione questa sera? Oddio, no! Io le notizie le leggo su internet come tutte le persone sotto i 70. Addio, dinosauro! Il mio programma non l'ha visto nessuno, quindi nessuno ha sentito il mio passo falso. La mia carriera è salva! Beh, la cosa importante è che abbiamo superato questa crisi insieme, così siamo amici, giusto? Ah, ehi, guarda, l'autobus per l'aeroporto, prendilo. Ok. America West, per favore.